L'anno 2011 sarà il cinquantennio del primo volo nello spazio da parte dell'uomo. Gli studenti delle università di tutti i paesi salutano tutti coloro che vi stanno ascoltando. Siamo in onda attraverso la piccola stazione speciale Radio Scarf 2 che appartiene ai giovani. Vi auguriamo che ci sia sempre la pace sulla terra e tanta felicità per ognuno di voi. Mi sento la vostra credibilità in campo speciale al servizio dell'umanità. Buona fortuna! Ciao, mi chiamo Giulia e sono italiana. Una cosa importante nella mia vita e credo anche nella vostra è l'amicizia, un tesoro del quale non si può fare a meno. Un amico è una persona con cui parli e ti confidi, ti sfoghi, ti diverti. Un amico ti aiuta e ti sostiene. Tu gli dai la tua fiducia e gli ti dà la tua. La chiave segreta è... Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie.